Nella bolgia dei ladri, Dante assiste ad una punizione ammonitrice. Il brutale pistoiese Vanni Fucci osa rivolgere un gesto osceno a Dio stesso e viene subito punito. Le serpi lo avvinghiano crudelmente e mentre Dante inveisce contro Pistoia, il dannato scompare nella bolgia. Dante sopraggiunge richiamandolo il furioso centauro Caco, avvolto da serpenti. Sulla sua schiena porta un drago con le ali aperte che lancia fiamme. Mentre anche il centauro passa oltre, i due poeti vengono richiamati da tre ladri fiorentini. Uno di loro viene subito assalito da un serpente con sei piedi, che lo avvinghia e lo morde. Dante descrive allora un fenomeno terribile e meraviglioso. L'uomo e il rettile si fondono in un solo essere mostruoso. Un altro serpentello si avventa sull'ombelico di un dannato, che lo guarda sbigottito. Le bocche dei due esseri cominciano a fumare e avviene una duplice metamorfosi che trasforma l'uomo in serpente e viceversa. Dante si sofferma lungamente a descrivere con precisi particolari la metamorfosi, facendo esplicitamente a gara con i modelli classici di Ovidio e Lucano. Mentre il novello serpente si allontana strisciando, il dannato che ha ripreso forma umana prima sputa, poi rivela il nome dell'altro, Buoso Donati. Il terzo dannato, che assiste alla scena terrorizzato, è Puccio Sciancato, un nobile bandito da Firenze.